Anche quest'anno per la giornata dell'archeologia con Valle Susa Tesori siamo a URSS, alla storia del finale, ci vorrei parlare con Andrea Tertoro, sindaco di URSS, che ci racconta anche l'allestimento interno della torre l'anno scorso e abbiamo parlato poi della storia. Sì, allora nel video dell'anno scorso abbiamo raccontato un pochino la peculiarità della torre, la sua storia e gli aspetti esterni, il bello della giornata archeologica è che può essere anche visitata all'interno, questo monumento se vi ricordate appunto era completamente nelle sue parti interne era completamente collassate, quindi ciò che rimane di autenticamente trecentesco sono tutte le murature esterne, però tutti i solai all'interno e col tempo erano marciti, quindi anche il tetto, la copertura erano collassate. È stato poi fatto, oramai quasi una ventina di anni fa, un importante lavoro di ripristino, quindi sono stati ripristinati tutti i solai, quindi tutti esattamente come erano all'epoca. La parte più interessante che è nuovamente accessibile è proprio la sala, questa dove ci troviamo adesso con questa grande cheminée, questo grande camino che si presuppone, si può immaginare che potesse essere una sala di rappresentanza o di amministrazione della giustizia o di rappresentanza da parte del delegato del delfino o del delfino stesso. Ci si accedeva direttamente, come vi raccontavo l'altro anno, da fuori con una scala in legno, un ballatoio e si entrava quindi direttamente in questa sala qua. Il piano sotto erano essenzialmente dei magazzini, questa appunto è la parte del piano nobile e sopra c'erano le stanze e poi ancora più su il cammino di ronda sui merli. La bellezza di quest'anno è che finalmente, dopo alcuni anni di chiusura, la torre riapre con un qualcosa di più al suo interno, quindi non si visita unicamente la struttura, ma all'interno della torre che si presta perfettamente nel periodo estivo ad accogliere mostri, abbiamo un'artista di Ulse, Daniele Barbier, che invito a presentarsi, che ci racconta un attimo come ha pensato, perché l'idea è nata da lui, lui un giorno appunto mi ha chiamato dicendomi ma e se io esponessi alla torre? Ben volentieri sono tutte immagini del territorio e sculture appunto realizzate con la sua passione, anche con l'intento mi raccontavi di rilanciare un pochino la grande tradizione della scuola di scultura di Valle. Salve, dopo un anno e mezzo di tristezza assoluta ho pensato anche che con quello che potevo strappare qualche sorriso e questa è stata un'occasione, essendo innamorato del territorio mi sembrava al minimo di ricambiare quello che il territorio ci dà a noi, quindi questa mostra qua con i suoi colori e tutto è quello che siamo noi dentro, quindi la semplicità fatta a persona e con l'intento veramente di poter condividere con altri momenti o la curiosità di certi posti e questo è quello che ho cercato di trasmettere. Grazie mille e il bello è scoprire il territorio, quello che ci ha lasciato la storia e quello che continua a portarci come patrimonio artistico anche attuale, quindi invitiamo tutti il 18 di settembre a venire durante la giornata dell'archeologia a visitare anche la Torre del Finale di Gus. Grazie mille, alla prossima!